Questi qua si possono mangiare o sono finti? Se me ne lasci qualcuno per la ricetta mi fa piacere. No, ma stai giù una. Vedi tu. C'è il braccio. Guarda che c'è una roba bestiale. Prendi una frusta, Ugo. Una? Frusta. Sei masochista. No, ti voglio frustare. Mi rotto le scatole, ma ora ti voglio frustare.